Ormai siamo arrivati al diciannevesima edizione, per noi è un traguardo molto ambizioso. Ci stiamo già preparando per ovviamente festeggiare il ventennale, visto che i 18 anni non li abbiamo potuti festeggiare per motivi che sapete benissimo. Ovviamente da un anno a questa parte, dall'anno scorso a quest'anno, il campionato è diventato un po' più particolare, anche perché c'è il ricordo di uno degli organizzatori che è anche mio figlio. Quindi maggiormente questo campionato è dedicato soprattutto a Filippo, che era uno di noi ed è uno di noi ancora oggi. Quindi il campionato si riveste ancora di più con grandissima soddisfazione e soprattutto anche puntata sul sociale. L'edizione quest'anno si arricchisce ancora una volta, come ogni anno, oltre ovviamente le competizioni che ci sono in gara. Abbiamo aggiunto due gare importanti, che è il concorso Rosso Pizza Piccante, di cui abbiamo avuto una bellissima partecipazione con le ricette che sono pervenute un po' da tutta Italia. E poi il concorso Pizza Bio, è una novità in cui stiamo, perché oltre noi a fare i campionati, poi ci occupiamo anche della formazione professionale e quindi pensiamo ai clienti. Abbiamo fatto la pizza biologica, è anche questo un concorso che da quest'anno sicuramente prenderà piedi e darà delle bellissime soddisfazioni anche ai clienti, perché mangerà un prodotto ovviamente molto molto biologico.